eccoci qui cari amici sembra orario presto quando si perde sonno non si riesce a dormire più va bene parliamo in questo video dei posticipi che si sono disputati ieri sera della serie c girone albinoleff e gianna arminio 0 a 1 nonostante la gianna arminia abbia concluso la gara in dieci uomini alessandre novara 1 a 2 quindi veniamo alla classifica del girone a di lega pro come volete serie c in destra lecco a dieci punti poi novara grosseto reinati a 9 carrarese 8 provercelli 7 juventer 23 como pondedera propatria 6 pergolettese 5 alessandre piacenza processo 4 gianna arminio 3 pistoiese 3 livorno 2 lucchese albia albinoleff 1 quindi noi ci vediamo tra un paio di orette il tempo di fare di lavorare un pochino e poi di di ritornare qui a casa sicuramente ci sarà il video dedicato al basket all euro cup le partite di di oggi e poi domani ovviamente per quelle di domani bene grazie a voi tutti noi ci vediamo per i prossimi video se vi va iscrivetevi commentate spolliciate tutto gratis per voi e anche per me ciao